Ciao, sono Maria Segura, classe 92, sono spagnola catalana, ho giocato in Germania l'anno scorso nella società di Dresda e quest'anno sarò la schiacciatrice della Millennium Press. Sogno con la pallovolo da quando ho dieci anni, quando ho iniziato a giocare nella scuola e da lì ho arrivato fino qua nella Italia dove ho giocato a Olvia, dopo Trento, Monza, Cunio e finalmente qua a Brescia. Le mie motivazioni sono state che è una società molto umile, secondo me, che lavora tantissimo e quella è una cosa che cerco nelle squadre dove vado e che secondo me con il gruppo e insieme alla società riusciremo a fare tante belle cose. Sono una ragazza che le piace tantissimo viaggiare e conoscere delle nuove persone, infatti grazie alla pallovolo sono riuscita a visitare tanti 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 posti, anche e soprattutto godermi un po' le città e le diverse culture che ho vissuto e faccio un gran gran invoca al lupo a noi e insieme a te. No!